Oggi facciamo il rotolo di gusto, panna e fragole. Per cambiare gusto al vostro rotolo, al posto della crema spalmabile alle nocciole, potete sostituirla con la crema spalmabile al pistacchio. Per rimanere aggiornato su altre ricette, iscriviti e attiva la campanellina. Per aromatizzare la crema spalmabile alle nocciole, potete aggiornare la crema spalmabile alle nocciole. Per aromatizzare la panna, al posto dell'estratto vaniglia, potete sostituirla con la buccia grattugiata di un limone. Se nella panna avete sostituito la vaniglia con la scorza grattugiata di un limone, sulla decorazione potete aggiungere altra scorzetta di limone. Musica Buon rotolo di gusto a tutti e alla prossima ricetta! Ciao!